Jacopo Araldo e Lorena Boero, su Skoda Fabia Rally 2, vincono la prima edizione del Rally Valle Arroscia. Al secondo posto, in testa per tutta la prima giornata, Federico Gangi e Andrea Ferrari, su Skoda Fabia Rally 2, con un distacco di 16 secondi e mezzo. Terzi classificati, Jacopo Bergamin e Alice Tasselli, su Skoda Fabia R5 Evo, distanziati di 1 minuto 34 secondi 5 decimi.